A te, tanti auguri a te, tanti auguri a Mario, tanti auguri a te. Allora, è una forza di seconda, non l'ha voluta nessuno e me l'ha data, però l'ha fatta a metà prezzo. Auguri Mario. Grazie Mario. Vieni la candela. Allora, vengi. Accendete la luce. Vengono se stagge la candela. Oh, con i cilici sono amore. Talla che ci faccia questo. E che cassa è paura che c'è il negro dentro? Non è che Mario è un negrone che esce. Aveva paura, mi ha fatto scrivere amori Mario. Non si sa di Mario. Certo che è proprio una torta nel cazzo comunque. Ti fa pieno di cazzetti. Cos'è che ci sono sopra? C'è un altro piccolo cazzi. Lara, dove li prendi tu i cazzi? È il mare. Ma è vero che... Oh Mario! Lara, Lara, aspetta. E vabbè, questo lo sappiamo. La mongolosità salta fuori. Ma è vero che Jonathan, per via del fatto che ha due uccelli, riesce a diritti che cazzo vuoi? Lo sapevo io. Jonathan, è inutile. A te ti chiamavano sgabbello. Perché stavi in piedi con tre gambe. C'ho la tanga. Vediamo la panza. Ora, fai il duro. Fai un'espressione dura. Fai un'espressione dura. Fai un'espressione mongola. È uguale, visto? Perché Mario? E scrivici Mario. Perché Mario? C'è un negro che si chiama Mario. Perché doveva essere una torta avanzata. La quarta parte l'ho pagata meno l'ho presa che c'è scritto Mario. Con la faccia lì, guardare l'altro. Brava! 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 Anche la Lara ci arriva. Sì, se non ci arriva, si mette sullo sgabbello. Esatto. Lo sgabbello lo fa Jonathan. Tutti i cazzettini. Cos'hai detto? Oh, certa! Sono contenta! Veramente lei aveva fatto la domanda e trovava la torta con il nero. Con il nero. Non c'è la ricorda? La con jelly? Con jelly, sì! Vorrei che ti dà una cortetta. Ma lo santa, se fa queste cose, è merito di casa. Brava! Non c'è la ricorda. Se hai ancora una cortetta. S來了, s來了, s remains. No! Ma lo s ma... Fabio, come fa un iPhone a aver uno schermo grande così? come fa? cosa stai? è la natura?